Ciao sono Luca di Mr.Cadget, sono pronto a presentarvi una novità molto importante e questa nelle mie mani ovvero Huawei P30 Pro Facciamo subito un piccolo chiarimento rispetto all'ipotesi di fare una recensione in uno o due giorni di un telefono l'unico dettaglio che non ho proprio il modo di valutare ma mi fido insomma della combinazione tra un certo tipo di processore e un certo tipo di capacità della batteria è proprio l'autonomia del telefono perché ovviamente nel giro di 48 ore non sono in grado di valutare correttamente quanto duri la batteria però bisogna dire che con 4200 mAh di dotazione con il Kini 980 che ha una gestione dell'autonomia eccezionale mi sento di escludere qualunque problema della batteria per Huawei P30 chiarito questo dettaglio che è importante andiamo a vedere da vicino cosa c'è dentro la scatola aprendo la confezione di Huawei P30 Pro a parte il telefono che è già stato tolto arriva il pirpacchiolo ovvero ciò che serve per aprire il cassettino della doppia sim non c'è una cover quantomeno dentro la confezione che ci è stata consegnata mentre è importante sottolineare come ci sia il caricatore ultra rapido pensate ben 40 watt per la ricarica tra un po' saranno più potenti degli aspirapolveri poi ovviamente il cavo per la ricarica con il connettore USB Type-C e poi gli auricolari il cui aspetto ricorda molto quelli di iPhone è evidente che quel design sia funzionale questa dunque è la scatola e il telefono? il telefono è questo in tutta la sua gloria 6,47 pollici per un display AMOLED di ottima qualità 6,47 pollici solo con questo gocce come viene chiamato da qualcuno cioè il notch a forma di goccia che contiene anche la fotocamera frontale poi andremo anche ai dettagli della fotocamera però schermo curvo per il nuovo Huawei P30 nella sua versione Pro sulla parte posteriore ben quattro sensori fotografici che sono quelli che vedete dunque con l'aggiunta 1,2,3 più il quarto sensore sapete che in questo caso nel caso di Huawei P30 Pro avete un sensore tra virgolette normale ma poi torniamo sulla fotocamera abbinato ad un telefoto che riesce a fare uno zoom 5x con un sistema chiamato periscopio e poi la fotocamera invece con il grandangolo la novità poi c'è la telecamera time of flight quindi quella per i modelli 3D e per la raccolta di informazioni sulla profondità sapete che la cosa fondamentale è che sia la fotocamera principale che la fotocamera con lo zoom fino a 5x hanno una stabilizzazione ottica quindi doppia stabilizzazione ottica per un risultato ancora migliore nella parte superiore del telefono c'è il sensore a infrarossi mentre nella parte inferiore avete il connettore USB Type-C quindi lo slide per la sim e l'altoparlante nella parte superiore altra novità importante vedete non ci sono feritoi e non c'è nulla perché il suono delle telefonate passa attraverso il display questa è una soluzione innovativa di Huawei vedremo insomma quale risultato darà dal punto di vista della qualità delle telefonate io ho fatto adesso qualche telefonato ovviamente in queste ore e tutto sommato l'audio in ascolto è molto buono anche perché poi alla fine insomma il risultato fondamentale la cosa fondamentale da fare con il telefono è proprio quello un display gigantesco addirittura 102,8 cm2 con un rapporto tra schermo e superficie che arriva all'88,6% la risoluzione è 1080x2340 pixel con una ratio 19,5 noni la densità è di 398 pixel per pollice mi piace anche l'idea di affiancare i due prodotti top di gamma di Huawei da una parte P30 Pro dall'altra invece il Mate 20 Pro per vedere quali possano essere le differenze intanto entrambi con uno schermo curvo vedete c'è un notch più pronunciato nel Mate 20 mentre c'è solo il notch a goccia nel P30 Pro curiosamente leggermente più pronunciato invece il cosiddetto chin cioè il mento però nel complesso i due telefoni hanno un impatto molto simile quando li si gira ci sono delle differenze fondamentali perché intanto quattro sensori fotografici per P30 tre sensori fotografici per il Mate sappiamo che Mate aveva questa proposta della fotocamera che richiamava le forme di Porsche dei fari di Porsche mentre diciamo un'evoluzione di quello che abbiamo già visto l'anno scorso in P20 per P30 Pro dunque con le tre fotocamera lineate e la quarta che è posizionata sotto il flash diciamo che complessivamente però il look and feel è molto molto simile sappiamo anche che per diciamo una questione di spazio per ridurre anche la dimensione dell'attacca Huawei P30 Pro rinuncia alla scansione 3D del volto rimane invece il sensore per le impronte digitali sotto il display e bisogna dire che è molto ma molto reattivo altro elemento molto importante su P30 Pro è la certificazione un IP68 mentre su P30 la certificazione è IP53 quindi anche in questo caso una qualità del prodotto che arriva ad una certificazione anche importante quindi resistenza ad acqua, schizzi e alle condizioni magari un pochettino più estreme di utilizzo che è sempre molto gradito non farei probabilmente cadere questo telefono perché tutti questi angoli arrotondati diciamo che insomma qualche potenziale di debolezza ce l'hanno comunque vedendo i due prodotti uno di fronte all'altro vedete che sono una evoluzione all'uno dell'altro senza una rivoluzione completa sicuramente due prodotti che si assomigliano molto di più rispetto al passato diamo un occhio da vicino alla fotocamera sappiamo dunque abbiamo detto quattro sensori sulla parte posteriore del telefono abbiamo un sensore da 40 megapixel con apertura 1.6 che è il sensore principale da 27 mm un sensore invece grandangolare con 20 megapixel e con l'apertura 2.2 e poi il cosiddetto sensore a periscopio quello da 8 megapixel stabilizzato a sua volta con apertura 3.4 ma con la capacità di arrivare dunque ad uno zoom ottico 5x proprio con questo sistema a periscopio tanto la fotocamera principale quella da 40 megapixel tanto quella insomma periscopio hanno la stabilizzazione ottica fotocamera frontale invece da 32 megapixel con apertura 2.0 vedendo il menu della fotocamera diciamo che siamo vicini a qualcosa a cui siamo abituati da tempo c'è la possibilità di scorrere per raggiungere le diverse modalità si moltiplicano invece le modalità della fotocamera aggiuntive a partire dalla scansione dei documenti fino alla modalità anche sott'acqua ecco per chi volesse pensare ad una modalità che è pensata per buttare questo telefono utilizzarlo così com'è con riprese subacquee in realtà questo nasce per delle riprese che vengono fatte con la custodia subacquea che è uno degli accessori di Huawei ci sono le lenti per la realtà aumentata c'è il light painting insomma tutto quello a cui siamo stati abituati in passato c'è una modalità ritratto tanto per la fotocamera principale quanto per la fotocamera posteriore ed è interessante secondo me notare la potenza della fotocamera vedete questo è la modalità ritratto che vi dà la possibilità di avere uno zoom 1x, 2x o 3x mentre quando andate nella fotocamera principale avete il grand'angolo la modalità 1x, la modalità 5x guardate quanto cambi la capacità di ripresa tra l'1x e la 5x cioè a livello proprio di zoom e poi avete un ipotetico 10x però vedete che a mano libera diventa un po' più difficile fare una fotografia è anche vero che una volta che voi applicate lo scatto l'intelligenza artificiale viene utilizzata per migliorare la fotografia però diciamo che lo scatto 10x è probabilmente riservato solo alle condizioni in cui voi avete un cavalletto a disposizione anche la modalità video migliorata drasticamente grazie alla stabilizzazione ottica la stabilizzazione ottica che potete utilizzare anche per girare i vostri video con lo zoom 5x in questo punto vedete la possibilità con cui accendete o spegnete l'intelligenza artificiale che riconosce le scene quindi adatta alle riprese questa invece è l'attivazione di iVision con il corrispettivo di Google Google o delle Google Lens la capacità cioè di vedere un oggetto di interpretare di che cosa si tratta e di trovare delle informazioni che lo riguardino forse avrete notato in questo momento mentre stavo utilizzando il telefono anche l'uso delle gestures o gestures per chi è infastidito dal fatto che usi questa pronuncia dell'inglese allora che cosa potete fare questo vedete erano alcuni dei test che ho fatto del display con questo movimento andate indietro con un movimento invece dal basso verso l'alto voi essenzialmente tornate alla home page invece con un movimento di questo genere fermando poi il dito al centro del display avete la possibilità di invece chiudere le applicazioni che state utilizzando un altro dettaglio molto importante vedete qua chiudete ovviamente tutti un altro dettaglio importante è che invece per alcune attività che potete fare con il vostro display la nocca è la cosa che è fondamentale vedete ad esempio il doppio tocco della nocca vi dà la possibilità di prendere uno screenshot del vostro schermo e volendo potreste scorrere anche sullo schermo per avere uno screenshot allungato insomma una navigazione che fa delle gestures sempre una parte fondamentale non è difficile utilizzare queste perché potete utilizzare entrambi i lati del display per andare indietro e avete visto un movimento facile verso l'alto invece per tornare a gestire il telefono nella sua home page ci sono i movimenti anche poi per la gestione di molte altre attività cioè con il doppio tocco voi svegliate il telefono vedete in questo momento poi non viene inquadrato il mio volto quindi non riesce a sbloccarlo però con il sensore delle impronte digitali potete comunque sbloccare anche quando non state guardando il telefono frontalmente quindi sensore delle impronte digitali sblocco del volto doppio tocco per riaccendere il display avvicinate il telefono all'orecchio per avere la risposta alle chiamate in automatico insomma anche questo telefono ha nelle gestures un elemento molto importante non so se serva veramente entrare nell'uso del telefono ad esempio per le cose più spicce la navigazione internet per l'utilizzo nelle cose di tutti i giorni il telefono è di una velocità impressionante ma d'altra parte Kirin 980 è un processore veramente meraviglioso avete diverse versioni di questo telefono con 6 o 8 giga di ram con tagli di memoria da 128, 256 o 512 come detto la batteria 4200 mAh è l'unico dettaglio su cui mantengo un po' insomma qualche riserva nel senso che non ho avuto il tempo per provare a fondo questo telefono però vi devo dire che insomma le premesse sono più che buone se vogliamo dare un occhio anche al menu del telefono insomma devo dire che non cambia tantissimo rispetto a quello che abbiamo visto su Mate 20 e Mui 9.1 tutto sommato rimane uguale vi faccio notare ecco che la posizione del telefono ovviamente la posizione della fotocamera rende un po' più ballerino il telefono rispetto non è centrato però vedete che toccando essenzialmente il telefono vedete come fosse stabile questo lo è un pelo meno ma inevitabile con questa forma del telefono dicevo stavamo guardando il menu del nostro Huawei P30 Pro con delle voci che conosciamo ormai bene lo sblocco magazine ce la farò a evitare i pasticci non mi sono ancora abituato alle gestures che invece prevedono il movimento sul lato del display vedete dicevamo gestione dei temi dei fondi dello schermo suoni insomma non ci sono particolari novità rispetto alla gestione del telefono che è molto simile alla precedente c'è la wireless charge c'è la reverse charge insomma tutte le funzioni che fanno di questo telefono è un prodotto molto interessante nei prossimi giorni vedremo molti confronti tra Huawei P30 Pro e gli altri top del mercato intanto spero di avervi dato una visione piuttosto esaustiva e completa di questo telefono ovviamente ci sarà qualcosa che ho dimenticato io lo faccio anche appositamente per vedere quanto siete attenti per qualunque cosa sono sempre a disposizione per qualunque domanda prima di mandarmi a quel paese chiedetemi che magari ho una risposta da darvi ciao da Mr. Gadget